Giovedì 20 aprile uscirà nelle sale il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di uno dei grandi maestri del cinema italiano, 9 Davide Donatello, 12 Nassi d'Argento, Palma d'Oro e miglior regista del Festival di Cannes. Per quanto lui sia già accanto a me, fingo che non ci sia e approfittando di una improbabile distrazione vorrei mostrare queste immagini. Senti, ma che tipo di festa è? Non è che ai 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. Buonasera, il mio film è più bello, è il mio film è più bello, è il mio film è più bello. Chi parla male, pensa male e vive male. Anche in una società più decente di questa, mi troverò sempre con una minoranza di persone. Ragoni! 4 chili e 200 grandi! Ha problemi con la fede? Ma no! L'attore deve stare accanto al personaggio. Che vuol dire? Non lo so. E' con noi Nanni Moretti! Benvenuto e grazie, grazie molte. Allora, dal 20 aprile, come ho detto prima, torni nelle sale con un film nel quale tutti i numerosi, numerosissimi cultori di Nanni Moretti, le Cima e Nanni Moretti troveranno, secondo me, molti degli elementi, quasi tutti gli elementi di questa tua carriera che ha fatto sì che il tuo nome diventasse un aggettivo. Quindi io spero che tu non ti arrabbi se dico che questo è un film molto morettiano. No, non mi arrabbio. Basta che non dica tu che è un testamento, ecco, quello no. No, no, se quello è l'unico che lo può dire sei tu, ma penso proprio no. No, no, direi di no. No, no, è un film, allora, Il soldo dell'avvenire è un film sul cinema. Racconta la storia di un regista che si chiama Giovanni, che è interpretato da Nanni Moretti, che stia realizzando, insieme a sua moglie Paola, che è interpretata da Margherita Bui, produttrice, un film ambientato nell'Italia del 1956, con protagonista Silvio Orlando, un giornalista dell'Unità, che era il giornale del Partito Comunista, fondato da Antonio Gramsci, lo dico per i più giovani, e una militante del PC, Barbara Bobulova, che sono in crisi personale e ideologica perché proprio negli stessi giorni in cui si svolge il film c'è l'invasione sovietica dell'Ungheria. Ho detto più o meno... Bene. I carri armati a Budapest. Peraltro scene che poi oggi si ripetono... Ma l'abbiamo scritto un paio d'anni fa. Come sempre profetico. Allora, io farei così se siete d'accordo, però se non siete d'accordo tu dillo, eh? Sì. Ecco, no, cioè, lasciamoci bene, capito? Io farei vedere una scena che ci introduce nell'atmosfera di questo film, in cui davvero io mentre lo guardavo era incredibile, dicevo ma no, c'è anche questo, ma c'è anche questo, cioè proprio Nanni è stato generosissimo, per tutti noi che lo amiamo, c'è tutto quello che vorremmo vedere di un film di Nanni Moretti. Infatti non ho capito, ho detto ma perché è stato così generoso? Ma non è generosità. Un po' sì. Il film è fatto... Allora, c'è una scena in cui, dicevo Giovanni, il regista del film, si prepara una serata in famiglia, secondo un rito, il regista del film che sta per uscire, quindi ha un rito propiziatorio... No, che sta per girare. Che sta per girare, scusa, ha un rito propiziatorio che vuole condividere con la famiglia. Guardiamo. Bene, bene, bene. Il gelato è nel freezer, la panna in frigo. E se per una volta guardassimo un altro film? La caccia. La caccia è un film bellissimo. Quella scena in cui Marlon Brando è steso sopra la sua scrivania, gonfio, massacrato di botte, poi cade giù a terra come un sacco di patata. Papà? Però un rito è un rito. Deve essere sempre lo stesso, se no poi va tutto male. Aiutami. Noi ci guardiamo Lola con Anucca e me, mangiamo crema, zenzero e cannella, meringa alla nocciola tonda e gentile e pistacchio di bronte. Poi faccio un film una volta ogni cinque anni. Cosa ti costa rivedere Lola una volta ogni cinque anni? E comunque non va bene che faccio un film ogni cinque anni. Qui bisogna accelerare, bisogna stringere. Sì, sì. Pronto? Che succede? Credo che si sia fidanzata. Ah, e magari tu sei... Non so nient'altro. In un certo senso, dopo tanti anni, sembra di rivedere il tuo storico alter ego, Michele Apiscella, che questa volta però sei tu. Sono passati alcuni decenni. Però questa volta sei tu. Beh, sì, diciamo che io, per meglio dire, il personaggio che interpreto ha un po' una diversa relazione con gli altri. Rispetto al passato è un po' più in ascolto. Senti, com'è la genesi di questo film? Com'è nato? Eh, diversi anni fa, con le sceneggiatrici, ho cercato di scrivere un film ambientato nel 56. Ci abbiamo lavorato un po' di tempo e poi non è venuto. Allora abbiamo scritto e ho girato Tre Piani. Poi, mentre Tre Piani era nel frigorifero per un anno e mezzo, perché nel frattempo era avvenuta la pandemia, allora ho detto riprendiamo quell'idea di un film ambientato negli anni 50, però quella deve essere solo una parte del film. Raccontiamo la storia anche del regista che vuole girare quel film, che non è un regista in crisi, perché gira un film, ne sta scrivendo un altro e ne immagina un terzo con tante canzoni italiane. Sì, perché è un film nel film, nel senso che, come hai detto tu, sono tre, perché Giovanni sta girando un film su una sezione del PC del 1956, però il suo sogno è realizzare un giorno un film d'amore con tante canzoni italiane, che poi sono presenti negli ultimi i tuoi film, ormai molto spesso. Nessuno avrebbe immaginato di vedere un musical di Nanni Moretti, in realtà è accaduto, in aprile è accaduto anche questo. Sì, un po'. Un po', sì. E anche questa volta sono presenti Silvio Orlando e Margherita Bui, ormai, benissimo. Allora, c'è un'altra scena molto divertente nella quale molti si potranno ritrovare, per certi versi, e che ameremo molto. Una di quelle scene che secondo me rimarranno per sempre nel cinema di Nanni Moretti, in cui Giovanni si lamenta con la moglie della protagonista del suo film, per un particolare che ora vi svegliamo. Prego. Il dire sempre e dire la sua su tutto è sfiancante. Che dici? Posso ricominciare il film con un'altra attrice e rigirare tutto. L'abbiamo fatto altre volte. No, non lo puoi fare di nuovo, no. Questa volta no. Lo so, lei è complicata, però ti dà tante cose. Però deve obbedire e non deve più presentarsi sul set con il sabò, che io odio e tu lo sai. Però non le hai detto niente. Ah, perché secondo te io dovevo... Se il chiede è coperto davanti, deve essere coperto anche dietro. Non vedo le dita, allora non voglio vedere nemmeno il calcagno. Lascia perdere gli zoccoli olandesi. Lì è tutto un altro discorso. Gli anni settanta, il femminismo, il sabò, sono come le pantofole, che non sono delle scarpe, ma una visione del mondo, una tragica visione del mondo. Anthony Hopkins, in The Father, gira in pigiama per casa. Però noi, mentre lui cammina, non sentiamo l'orrendo suono delle pantofole. No, lui se ne va in giro in pigiama, cammina e noi sentiamo stock, stock in pigiama ma con le scarpe. Unica eccezione che possiamo fare per le pantofole a Retta Franklin nei Blues Brothers. Musica! Ci sarebbero tante cose da dire, ma... Però è vero che viviamo in un mondo in cui, in un presente in cui il dettaglio è totalmente trascurato. È invece importante. È importante, perché un dettaglio è poco, la somma dei dettagli è tutto. Credo che al di là dell'esigenza umoristica della scrittura, questo pensiero ti appartenga molto, in realtà, no? Da sempre. Sì. E quindi in realtà non è una... i sabò significano qualcosa di più, persino, credo. Senti, il protagonista del film che Giovanni sta girando, appunto, come ho detto, è Silvio Orlando, nel film si chiama Ennio, vive anche un conflitto fra, diciamo, l'essere un individuo e con le sue inclinazioni, con il suo carattere, la sua emotività, ma anche l'essere parte di qualcosa di più grande, in questo caso il partito. Insomma, è il conflitto fra il pubblico e il privato, insomma, è la famosa questione privata di cui tante volte qui abbiamo parlato, l'aspetto sociale e quello politico, che è una cosa importante anche questa. Sì, ma più che altro, diciamo, è molto dal... lui rappresenta un po' la ragione del partito, ecco, poi a un certo punto questo fatto incredibile che fu l'invasione sovietica in Ungheria lo mette in crisi, naturalmente, ecco, lo mette in crisi anche il rapporto con il personaggio interpretato da Barbara Bobolova. Che è appunto questa attrice di cui poi in realtà si innamora nel film e i due protagonisti parlano, infatti a un certo punto del Sol dell'Avvenire, parlano di che cosa significa essere comunisti nell'Italia del 1956. Vorrei mostrarvi questa scena. Non è possibile essere comunisti se si è contro l'Unione Sovietica. Lo dice Togliatti. Ci sono momenti della storia in cui bisogna essere schierati. Ho capito questo, lo dice Togliatti. Ma tu? Tu cosa pensi davvero? Guerra. Noi abbiamo educato la nostra gente a considerare l'Unione Sovietica il faro del socialismo. Non hai coraggio, Ennio. Devi rischiare. Noi due abbiamo avuto sempre gli stessi ideali. Noi due. Aiuto! Stop! Stop! Cosa fai? Cosa stai facendo? Non c'è nessun bacio qui. Ma noi ci guardiamo in un modo speciale. Ma in che modo vi guardate? Siamo innamorati. Ci dobbiamo baciare. Tra noi due c'è una storia d'amore. Questa è una scena d'amore? Ma quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica, di scelte politiche. Questa è la cosa importante. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore, no? Potrebbe essere. Silvio, ti ci metti pure tu. Perché escluderlo? Giovanni, tu stai facendo un film d'amore. Un film pessimista sull'amore. Non ne sei consapevole, ma è così. Questa tua... Può darsi... Può darsi che un regista pensi di fare un film, mentre invece ci sono delle cose di cui non è consapevole. Senti, ma in questa tua affasia di questa scena, di come si conclude questa scena, c'è più, diciamo, non ho capito se c'era malinconia, diciamo, rispetto a quello che la politica rappresentava o disincanto? Ma no, qui, no, più che altro invece c'è il rapporto con gli attori, insomma, almeno per come la vedo io, ma ti ho appena detto che non è detto che un regista capisca il film che sta facendo, no? Più che il rapporto con la politica, qui c'è il rapporto con l'attrice, con l'attore, ecco. Così la vedo. Così la vedi. Ma secondo te davvero se il PC, come dici nel film, avesse preso una posizione diversa sull'Ungheria, le cose sarebbero state diverse oggi? Beh, sì, senz'altro. Quindi è per quello che volevi fare un film sul 56? Senti, a questo proposito però, te l'ho detto anche quando siamo sentiti in settimana, la tua famosa esortazione a D'Alema, di qualcosa di sinistra, rivista oggi sembra veramente appartenere a un'altra era, ma spero non per colpa di D'Alema. No, 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 sudo. Ah, no. E' caldo. Dico, sembra appartenere a un'epoca lontanissima. No, perché? Cioè, oggi la diresti ancora? Beh, molte elettrici, molti elettori di sinistra l'avrebbero detta questa cosa negli ultimi anni, senz'altro. Oggi è cambiata la situazione? Può darsi che stia cambiando. Può darsi che stia cambiando. Senti, viene fuori anche, dicevo, in questo film una Roma che fa da sfondo alla storia, ma mentre, caro diario, giravi in Vespa, questa volta giri in monopattino? Sì. Tu non lo usi nella vita? No, no, ho imparato per la scena del film. Ah, questo mi rassicura molto, noi eravamo molto preoccupati. No, 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 l'ho usato quel giorno, ho fatto una prova e poi abbiamo girato. Anche questo è un segno di mutamento profondo, però, no? Sì, sta oltretutto quella Vespa lì in pensione al Museo del Cinema di Torino. Peccato. Non ce la faceva più. Sarebbe stato bello averla. Ne ho presa un'altra più. Ma quelle di adesso? Beh, sì, insomma, c'è una decina d'anni. Sì, ok, va bene. No, era per curiosità, perché se avevamo la stessa. Senti, Giovanni sta girando, come abbiamo detto, questo film politico ambientato in Italia negli anni 50, ma come regista deve lottare con un presente che irrompe continuamente sul set sotto forma di oggetti dimenticati e che incongrui col 56, c'è un telefonino, un cellulare, una lampada e mi sono detto se anche questo aveva un significato, cioè se c'era anche questa una trovata in qualche modo di sceneggiatura o se c'è un disagio rispetto al presente. No, poi si capirà perché ci sono quegli oggetti incongrui sul set. Però non c'è nulla di personale? No. Non c'è nulla di personale. Ecco, ed è anche questo film che uscirà giovedì, Il Sol dell'Avenire, un atto d'amore nei confronti del cinema, ma anche, non rinunciando mai al tuo sguardo molto ironico, e infatti te la prendi con un giovane regista nel film che a sua volta sta girando un film molto violento, e dice una cosa però importante sulla violenza, no? Io? Eh, nel film? Sì, beh, dico che cito un film che a me piace molto, una scena di un assassino, un film che a me piace molto, di Chieslowski, e invece patagono quella violenza, la violenza di questo giovane regista che non ha peso, che è un po' intrattenimento. E anche qui è una cosa tua molto... La spettatore, sì, devo dire che le mie esperienze di spettatore influenzano molto le mie scelte di regista. Certo, però è anche, insomma, ancora una volta il solito tema, il solito, magari solito, insomma un tema importante rispetto al rapporto fra l'etica e l'estetica, nel senso che se c'è soltanto estetica senza etica non va bene, ma insomma è il principio della fine quando si comincia così. Anche da dire che questo film è stato girato a Cinecittà, un omaggio quindi appunto al cinema italiano. Ci sono anche dei riferimenti a Fellini, col circo probabilmente, o li troveremo, li troveranno. Sì, ma c'è poi un frammento della dolce vita, insomma, che... C'è un frammento della dolce vita... Sì, degli spettatori... Ma tu andavi sul set di Fellini, andavi sui set suoi, no? Sono andato qualche volta, sì, sì. C'era un casino micidiale. E lui lo alimentava, lo evocava. La presa diretta sarebbe stato impossibile per lui, il suono in presa diretta. Il suono lo faceva molto dopo le riprese. E quindi c'era... c'aveva visite di qualunque tipo, ogni giorno, ogni giorno. Senti, pensi che il cinema sia ancora in grado di incidere sulla realtà? Perché no? Sì, insomma, il cinema ci aiuta a ragionare sulla realtà, però ci aiuta anche a sognare, noi registi e gli spettatori. E poi, se i sogni si realizzano, meglio sognare cose belle. Oggi molti grandi registi hanno lavorato non solo al cinema, ma anche con le piattaforme, che fanno le serie, no? Da Lynch a Woody Allen, ecco. Scorsese. Scorsese. Vedremo mai una serie TV tua, secondo te? Ma può darsi, perché no. Ah, ma questa è una notizia. Sì, però vanno molto di corsa. Io mi prendo molto tempo quando giro. Invece le serie, insomma, galoppano molto. Quindi, però non lo sa. Né chi lo sa. No, perché c'è una scena molto divertente. Io la prendo dal trailer, 12 secondi, perché è stato molto cattivo e non me ne ha dati di più. La volevo vedere tutta. Io volevo farvi vedere tutto il film. Per l'entusiasmo. Io volevo farvi vedere tutto il film. Però lui non vuole, perché Nanni Moretti dice che il film bisogna vederlo al cinema. Allora, c'è una scena in cui, insomma, è un momento di difficoltà, diciamo, economica per la produzione del film e quindi un improbabile produttore francese ha un'idea geniale e propone a Giovanni, il regista, di accettare una coproduzione con Netflix. Ecco, quello è quello che accade. Andiamo. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi. 190 paesi. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode. No. No. Puff. Tutto il resto dovete andare al cinema dal giovedì. Il sole dell'avvenire è anche quest'anno Sarai a Cannes. Congratulazioni. Sì, grazie. Molto, molto contento per te. Sì, con Alice Norvacher e Bellocchio. Che bell'occhio. Tre film italiani a Cannes. Questo è il manifesto francese. Guardate quei meraviglii. Questo qua l'abbiamo recuperato per mostrarvelo. Verso un avvenire radioso. Il sole dell'avvenire è stato tradotto così. Nanni Moretti è amatissimo in Francia e quest'anno festeggi i tuoi 45 anni a Cannes. Sì, è vero. E c'è bombo. Sembra incredibile, però E c'è bombo era in concorso a Cannes, sì. Non perdetevi il sole dell'avvenire. Non perdetevelo. Da giovedì al cinema, al cinema, rigorosamente al cinema, Nanni Moretti. Grazie. Grazie a te, Nanni. Grazie a te. Grazie a te. Filippa.